Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in un nuovissimo video Io sono Alessandra Cittesim e se ancora non mi conoscete Nei infobox potete trovare tutti i miei riferimenti per seguirmi ovunque E vi ricordo che appunto questo video fa parte dell'Ultimate Decades La serie che sta andando avanti ormai da decadi in effetti Come vi ho anticipato nel video di gameplay di oggi Ho deciso di separare il video di presentazione dei pretendenti e delle pretendenti Questo anche per agevolare a voi lo spulciamento della ciccia Ecco, benvenuti in una nuova edizione di Conosciamo le pretendenti per Vermeer Grazie innanzitutto a tutti voi per averle caricate E sono molto molto contenta di presentarvi tutte queste donzelle Che sono arrivate per Tancredi Lo so ragazzi, avete notato che Tancredi si è fatto un bel fustaccio Anche meglio di Bernardo E quindi sono accorse tutte loro Devo dire che come darvi torto Ma adesso vi vado a raccontare la loro storia Le loro storie E dobbiamo anche darci ragazzi una mossa Perché dovete sapere che l'anno che racconteremo oggi È il 1341 E nel 1342 Tancredi appunto sposerà una di loro Quindi datevi da fare E al termine di questo video Ricordatevi appunto i loro numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 E le andrete a votare su Discord Lì mi metterò appunto nella sezione Sondaggi dell'Ultimate Decades I loro nomi E potete andarle a votare Per decretare la vostra preferita Una sola votazione vi ricordo ragazzi E appunto Due di loro entreranno in partita Per contendersi il cuore di Tancredi Nel prossimo episodio quindi Non solo conosceranno Tancredi Ma se lo sposeranno anche ragazzi Quindi succederà di tutto In un unico episodio Giovedì prossimo appunto Settimana prossima Detto ciò cominciamo subito Allora innanzitutto non so cosa sia successo qui ragazzi Perché lei ce l'ha un nome Adesso ve lo mostro Lei si chiama Chloe Jensen Eccola qui E adesso vi vado a leggere la sua storia Lei è stata creata da Arete 18 E andiamo a leggere Chloe è una ragazza determinata A realizzare il suo sogno Di diventare un'artista Con i capelli biondi E gli occhi azzurri Passa le giornate dipingendo paesaggi E ritratti dalla finestra Della sua piccola casa medievale Un giorno mentre cammina Per le strade polverose del villaggio Incontra un giovane ragazzo Di nome Tancredi Vermeer I due si scambiano uno sguardo E in quell'istante Chloe capisce di essere attratta da lui Piccola nota storica ragazzi Poverina lei ci provava A investire tutti i suoi sforzi Sulla volontà di diventare un'artista Ma sappiamo che le donne Non avevano molta chance E a tal proposito Tante donne che dipingevano Ed erano effettivamente brave Nell'arte pittorica Facevano quando riuscivano Come dire Veicolavano le loro opere Tramite nomi diversi Quindi è capitato Ma ovviamente Non avevano molte molte chance Chloe nota che a Tancredi Cade un anello dal taschino del mantello Prontamente si china a raccoglierlo Ma quando si rialza Tancredi è già lontano Determinata a ridargielo Chloe passa tutta la notte A pensare a come poter restituire L'anello al ragazzo Al mattino decide di trasformare L'anello in una bellissima collana Sperando che un giorno Possa restituirlo a Tancredi Oh mio dio ragazzi Questa è la collana Questo è l'anello di Tancredi Oh mio dio Allora Io l'adoro Scusatemi se mi permetto Lei infatti Come potete vedere Ha come obiettivo Aspirazione Pittrice straordinaria È buona Ed è ordinata Quindi questo fa sicuramente di lei Una bella E brava Donna Medievale Soprattutto per questo Per l'ordinata E Bravissima Chloe Io apprezzo tantissimo Il fatto che si sia fatta Una collana Con l'anello di Tancredi Ed è una cosa dolcissima ragazzi L'è rimasta folgorata Quindi Se volete votare Chloe Ricordatevi Il numero 1 Quando procederete Alla votazione Su Discord Veniamo alla seconda Pretendente ragazzi Si chiama Irina Harrison Chissà da dove viene Come aspirazione A super genitrice Avventurosa Ed ordinata Mentre invece Vi dico che Questo è il nick Della sua Creator Giulia Lameio Adoro Adesso vi Leggo la sua storia Che mi è stata mandata Su Instagram La seconda genita Di un sovrano Di regno sperduto Della fredda Norvegia Nelle sue vene Scorre il sangue Degli antichi vichinghi Dalla sua nascita È stata preparata Per diventare Una brava moglie E madre Al compimento Dei 15 anni Fu promessa Al principe del regno vicino Peccato che Arrivato il giorno Delle nozze Irina si ritrovò All'altare Con un uomo Molto più vecchio di lei Tempo dopo Una donna le si avvicinò Dicendole che avrebbe risolto I suoi problemi Irina ingenuamente Si fidò Ignorando completamente Che ella fosse una strega La donna le diede dei fiori Da mettere nel passo Del marito Tanta era la disperazione Di Irina Che lo fece La mattina dopo Il marito fu trovato Morto dai servitori Che ci misero poco A capire Che era stato avvelenato Irina fu incolpata Del decesso Del principe E condannata a morte Irina però Era riuscita a fuggire Portando con sé Qualche gioiello prezioso Come dote E il suo abito da sposa Il suo intento È quello di trovare Finalmente Qualcuno Che la ami davvero E con cui Costruire Una famiglia Ragazzi Infatti Non so se notate Lei è vestita Da vichinga In effetti Ha questa pelliccia Questa cosa Ti vogliamo bene Irina Ovunque tu sia Cioè Ovunque sia Il marito morto Volevo intendere Però Sì Brava Tra l'altro Lei mi sa Che ha anche Un anello Che è l'anello Del matrimonio Che le è stato dato Dal marito Chi può dirlo Ragazzi Ma fatto sta Che il marito È schiattato Brava Irina Sinceramente Siamo contro la violenza Ma in questo caso È autodifesa Ragazzi Dai d'altronde Lei era giovane Si è ritrovata Con un becchiardo Ci sta Ci sta Assolutamente Siamo con te Irina Sappilo Ragazzi Se volete votare Irina Lei è la pretendente Numero 2 Quindi ricordatevelo Per il voto successivo Non ricordo Se per Irina Vi avevo letto i tratti Comunque Lei è avventurosa Ordinata Anche lei Bravissima E come aspirazione Ha super genitrice Quindi Lei è la numero 2 Non dimenticatevi Anche dei suoi tratti Ed ecco ragazzi La nostra terza pretendente Anna Lea Torrisi Tra l'altro Lei ragazzi Ha una storia Veramente strappalacrime E come potete notare Dal suo viso Penso che qualche indizio Potrebbe già essere colto Da qualcuno di voi Lei come aspirazione Ha anima gemella È romantica E corretta E andiamo a leggere subito La sua storia Innanzitutto La sua creator È Bio95 E Anna Lea Torrisi È stata abbandonata Subito dopo la nascita Dalla sua famiglia D'origine Per via della vitiligine O una malattia Della pelle Con cui è nata Cresciuta In un rigido Convento di suore Anna Lea Nonostante tutto Non ha mai smesso Di sognare per lei Una vita piena d'amore Raga vi giuro Che stupenda Anna Lea Per tan credibbi Grazie mille Siete stati precisissimi Anche tra l'altro Peraltro Alcuni di voi Mi segnalano Che non hanno cc E quindi Mi danno carta bianca Come vi dico sempre Per Come dire Dare io Qualche Abbigliamento Medievale Devo dire Che ho ripreso I colori Del suo vecchio abito Secondo me Questo le sta Divinamente Quindi Richiama anche Un pochettino Qui Il fermaglio E mi piace Veramente tantissimo Devo dire la verità Ragazzi Lo solo dico A tutte le sim Ma perché Sono sincera Io sono innamorata Dei vostri sim Comunque Anna Lea È la numero 3 Se volete votarla Quella era la sua storia Quindi procedete pure Veniamo adesso ragazzi Alla pretendente numero 4 Lea come aspirazione Anima Gemella È goffa È goffa È avventurosa Si chiama Rebecca Dormer Adesso vi vado a leggere La sua storia Ed eccoci qua ragazzi Rebecca Dormer È stata creata Da Amy Coles Aggiornata da una Già creazione Di Azur Badazzur Quindi Andiamo a leggere La sua storia Rebecca Dormer È una giovane ragazza Discendente di una Delle famiglie Più ricche dell'epoca Con una forte personalità È pronta a viaggiare Tutto il regno Per trovare l'amore Il vero amore Quando nacque Fu promessa e sposa Al figlio di un conte Amico del padre Appena lei ne venne a conoscenza Scatenò il putiferio Era ovviamente contraria Ma non avendo molti mezzi Per farsi ascoltare Appiccò un incendio Dove ne rimase ferita Per fuggire lontano Dal suo passato Ragazzi Cioè avete capito Ora ve la faccio vedere meglio Infatti lei aveva Oh mio dio Questa cicatrice assurda Beh Rebecca Sembra una Tenera ragazza Anche un pochettino Come dire Debole Di spirito Magari si potrebbe pensare Con questo occhietto dolce E in realtà È forte e come Ragazzi È forte e come Ha rischiato di morire Pur di non sposare Colui che Non reputava essere Il suo vero amore Quindi adesso Questa aspirazione Anima gemella Ha tutto un altro sapore Effettivamente sì Rebecca Noi ti aiuteremo A trovare l'amore Della tua vita Lei è la Pretendente numero 4 Quindi conservate Questo numero Per andare a votare Se lei è la vostra preferita Dopo su Discord Veniamo alla Pretendente numero 5 Ragazzi Teresa Medici Un nome che Devo dire Molto molto Importante La sua aspirazione Progeni di successo Tratti sono creativa E romantica Andiamo subito A leggere la sua storia Allora ragazzi Eccoci qua La nostra Teresa Come avete potuto notare I capelli sono un po' diversi Anche in questo caso Ho modificato io Per quello che avevo E spero che Marianna La sua creator Non me ne voglia Allora ragazzi La storia di Teresa È bella Interessante Teresa è figlia Di Attilio Medici Alessandra Valente Contessa diventata Poi duchessa Col matrimonio Quindi persone importanti Sua madre è morta Per una caduta da cavallo Quando Teresa Aveva tre anni E lo shock di quell'episodio Ha fatto sì Che avesse paura Dei cavalli per anni Si è allontanata Da casa per studiare E durante una delle giornate Di svago Incontra Tancredi Al mercato E si innamora A prima vista Di quel ragazzo Alto e bello Riuscirà a conquistarlo Allora in questi casi Ragazzi Ci sono un bel po' Di situazioni In ballo Perché sicuramente C'è da indagare Ovvero Che tipo di studi Stava facendo Teresa Perché sapete Le donne non è che Avessero nel Medioevo Tutta questa possibilità Allo stesso tempo Lei è figlia Di persone ricche Quindi probabilmente L'hanno mandata A studiare In posti Che avevano deciso loro Ma Chissà se lei Ha una Una dote Un'eredità Consistente Essendo figlia Di persone Comunque altolocate Chi può dirlo Ragazzi Secondo me Si è allontanata Da casa E una volta Che la madre è morta Il padre Le ha dato Il ben servito Della serie Se te ne vuoi andare A studiare Per i cavoli tuoi Mi dispiace Non avrai nulla da me Ma fatemi sapere La vostra versione Dei fatti Perché potremo Anche scoprirlo Prossimamente Quindi ragazzi Teresa È la nostra Numero 5 Pretendente Numero 5 Ricordatevelo Se è la vostra Preferita Ragazzi Adesso veniamo Alla nostra Numero 6 Devo dire Che lei Già ha un nome In particolare Lori Land La sua aspirazione È anima gemella È una persona Romantica E generosa Guardate Quante bellina E andiamo subito A leggere La sua storia Attenzione Perché ragazzi Questa storia Ci fa scoprire Qualcosa in più Anche di Tancredi Lei è stata creata Da Ria Tra l'altro Non so Ve la ricorderete Perché Ria Ha creato Anche la buona E ormai andata Isabelle Marie Che non fu scelta Tempo fa Ma poi Ci siamo ritrovati E poi Decesse Sì ragazzi Decesse Nell'incendio Di qualche anno fa Lori e Tancredi Migliori amici Fin dall'infanzia Trascorrevano giorni felici A giocare Tra gli alberi Di Hanford Ma donate una carestia Lori perse Sua madre E dovette partire Dal villaggio Insieme alla sua famiglia Per sopravvivere Ecco perché Non l'abbiamo mai vista Cresciuta lontano Non dimentico E non dimenticò Mai Tancredi Ritornata con l'intenzione Di confessare Il suo amore Lori spera Che il legame Di infanzia Col suo migliore amico Diventi qualcosa Di più Oddio Ragazzi Loro si conoscevano Quando erano piccolini E ne chissà Tancredi Si ricorderà di lui Chissà ragazzi Vedremo Comunque Lei è la nostra Pretendente Numero 6 Quindi se è la vostra Preferita Ragazzi Tenetela a mente E votatela Nel sondaggio Seguente Adesso veniamo Alla Pretendente Numero 7 Ragazzi È Biondissima Con gli occhi Credo verdi Azzurri Uh Ha i denti larghi Carina Allora Lei come aspirazione Anche lei Ha anima gemella È allegra Ed ordinata Si chiama Griselda Ambroggi Andiamo subito A leggere La sua storia Allora Ragazzi Griselda È stata creata Da Fighter Wolf E tra l'altro Lei nell'unità familiare Ha anche Adelaide Ambroggi Andiamo a leggere Le loro storie L'amato fratello Di Griselda È uno dei caduti Della guerra Di Parabiago Nella sua ultima missiva Auspicava la sua unione Con Tancredi Wermer Infatti All'accampamento Aveva avuto modo Di fare amicizia Con Bjorn Il quale Gli aveva rivelato Oh mio dio Il quale Gli aveva rivelato Che il fratello Più giovane Fosse in cerca Di moglie Pertanto In accordo Con la madre Adelaide Ah è sua madre Griselda Ha deciso Di farsi avanti Come pretendente Di Tancredi In modo tale Da rispettare Le ultime volontà Del fratello Non ci credo Raga Io adoro Quando C'è tutta questa Scoperta In corso Mi viene da piangere Vi giuro Sono pazza Sì Lo sono Adoro Comunque Vedo che Adelaide È ancora a lutto Perché ecco Perché è vestita di nero Lei tra l'altro È anche già Pessinista Amante della famiglia E ordinata Vuole una grande famiglia felice Quindi secondo me Spingerà Griselda Sua figlia A fare Tutto quello Che il fratello Defunto Sperava per lei Quindi trovare Un bravo marito Che potrebbe essere Appunto Il nostro Tancredi Ragazzi Lei è la penultima Pretenente Quindi la Pretenente Numero 3 4 5 6 7 E se è la vostra Preferita Ricordatevelo Per votarla Veniamo adesso Ragazzi Alla Pretenente Numero 8 Che è Lucrezia Ghiberti Lei come aspirazione A grande famiglia Felice Ordinata E Fedele Tra l'altro Non so Ma mi dà Delle vibes Da Maddalena Corvaglia Ditemi se anche a voi Secondo voi Sembra E' carinissima Anche lei E adesso Andiamo subito A leggere la sua storia Eccola qui Lucrezia E' stata creata Da Robert Rishan Grazie mille Lei è nata Nel pittoresco villaggio Di Chestnut Ridge Lucrezia Ghiberti E' una giovane ragazza Cresciuta tra le strade polverose E le capanne di legno Del suo villaggio Fin dalla tenera età Ha imparato il valore Del duro lavoro E della determinazione Poiché la sua famiglia Lottava ogni giorno Per sopravvivere Il destino di Lucrezia Prende una svolta Quando giunge il momento Per lei Di trovare un marito Determinata a cercare Il suo destino Oltre le mura Di Hanford on Bugley Ragazzi Adoro Una ragazza Che viene da fuori Proprio per cercare marito Lei si che ha le idee chiare Secondo me Tra l'altro Il fatto che sia fedele Secondo me Le dà anche Qualche punto in più Perché parte già Con come dire Con l'animo A dire Io do tutto A te Sono completamente Nelle tue mani E quindi Ragazzi Non voglio mai lasciarti Questo è Cioè da dire Che nel medioevo Ovviamente Si aveva L'idea Di sposarsi E che poi magari Se non era Il compagno giusto Della tua vita Magari quella persona Poteva morire Casualmente Avvelenato E invece in questo caso Lucrezia Sta cercando Proprio il vero amore Non vuole avvelenare Nessuno Brava Lucrezia Sei tutti noi Allora ragazzi Andiamole subito A rivedere Così vi faccio Un recap Di tutte loro E vi faccio vedere Quanto sono carine Allora Lei è Chloe Anche se non vedete Appunto Il nome scritto qui Non ho idea di cosa Sia successo E vi ricorderete La sua e la storia Dell'anello Che ha trovato a terra L'anello di Tancredi Poi abbiamo Irina Ricorderete Lei vichinga E la sua storia Anche Oddio Aiuto Eccoci qui E la sua storia Di colei Che fuggì Da un vecchiardo Giustamente A proposito Di vecchiardi E in questo caso Appunto Avvelenato E sinceramente Sei tutti noi Anche tu Irina Sappino Io sono per Ragazzi Per loro Per tutte loro Per tutte le loro Storie Io tifo per loro Sinceramente Sia che abbiano Ucciso Che non abbiano Ucciso L'uomo A cui erano Destinate Ma si spera Che non uccidano Il nostro uomo Sinceramente Anna Lea Torrisi Ragazzi Eccola Qui Lei Alla storia Devo dire Più strappa lacrime Perché è stata Abbandonata In quanto Probabilmente Accusata Di avere Il segno Del demonio Che in realtà Era semplicemente Banalmente La vitiligine Un po' diverso In realtà È il segno Di Rebecca Dormer Che ha Appiccato L'incendio Io L'adoro Perché sembra Una piccola Bambi E in realtà Ragazzi Attenzione Perché potrebbe Anche Farvi uscire Qualcosa Da sotto i letti Ve l'ho detto Che lei è goffa Avventurosa Spero di sì Poi abbiamo Teresa Medici Eccola qui Che bella Ragazzi Sembra una tronista Non so Ho uno sguardo Mi ricordo Una tronista Non mi ricordo Chi Poi abbiamo Lori Land Eccola qui Carina Hanno gli stessi capelli Molto simili Devo dire Poi abbiamo Griselda Ambrogi Eccola qui Lei è proprio Una lisca Ragazzi Adoro E in ultimo Ma non meno importante Ovviamente Lucrezia Ghiberti Che è appunto La sim Che vi ho appena Presentato Che occhi Quindi ragazzi Ricapitolando Chloe Jensen Numero 1 Irina Harrison Numero 2 Anna Lea Torrisi Numero 3 Rebecca Dormer Numero 4 Teresa Medici Numero 5 Lori Land Numero 6 Griselda Ambrogi Numero 7 E infine Lucrezia Ghiberti Numero 8 Quindi 1 2 3 4 5 6 7 E 8 Ragazzi Datevi da fare Io con questo Ho concluso La presentazione Delle nostre Pretendenti Per Tancredi Vermeer Vi ricordo Che avete Soltanto Una Pretendente Da poter Votare Quindi Mi raccomando Andate su Discord Il link È nell'info Box Vi ricordo Che Discord È gratuito Ho aggiunto Da qualche settimana L'opzione Verifica Ragazzi All'interno Di Discord Per cui Se avete Problemi E non vedete Tutte le stanze Dovete Effettuare La verifica È una Procedura Assolutamente Immediata Vi basta Andare Nella Piccola Stanza Che leggete A sinistra Verifica Cliccare Il tastino Ed è Tutto Automatico In quel Modo Accederete A tutte Le stanze Questo Per dare La possibilità A noi Di riconoscere Se ci sono Dei troll Di qualche Tipo E quindi Se non lo siete Non avrete Problemi A cliccare Verifica Se poi Avete Qualche Altro Tipo Di problema Mi raccomando Scrivetemi Direttamente Su instagram O Da qualche Altra Parte O anche Se riuscite Ad accedere Su discord Ma avete Problemi Col mio Server Scrivetemi Sesso Su discord Nella chat Privata Quindi Non ci sono Problemi Vi aspetto Ragazzi Lasciatemi Ovviamente Anche i vostri Commenti Sotto a Questo Video Con Le vostre Preferenze Per una sim O per l'altra Che comunque Potete esprimere Su discord In maniera Definitiva Ma qui Potete Fare Un pochettino Di commenti Più ampi Quindi vi aspetto Un bacio a tutti E ciao